Ciao a tutti sono Sergio e abbiamo entrato sul mio canale oggi episodio extra si va a con un ospite un iscritto oggi si va a a combattere nell'arena come avete visto da titolo ora dobbiamo trovare l'arena è bello eh collezione di fare orco nelle armi era l'avevo già sbloccato quando arriva l'arena? se fosse sul mio profilo l'aveva già fatto ma dove è l'arena? qua lì? no ti chiedo te io? Sean Nat però fai il trasporto per lui trasporto lo spostamento rapido aspetta 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 si credo sia quella no caccia gli animali no no fai lo spostamento casa di caldo non è sbloccato ma l'hai già fatto sì sicuro hai sbloccato o false canal qua? non lo so vai su vai su ma l'arena dovrebbe essere là dov'è? pensa che io l'avevo raccolto tutto il cento le maschere di Yalong farò spostamento rapido lì? devo capirti con l'arena no no ma è sana sicuro? sì sì prova poi semmai fai la spostamento a due qualche altra famiglia sperendo ammitte una drogata per me è che quando ti fa le domande per le per le missioni facciamo domande strane girati si potrebbe essere qua vediamo commercio muovarmi, 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 me fregano, me fregano, me fregano, me fregano vediamo il bazzurro la balestra automatica comprala appena poi eh come per esempio ammi uniche vediamo se se era quest'arma qua bushman eccolo qua è quello che hanno raggiungi il livello 10 dell'arena adesso qua l'arma più potente del gioco secondo me cioè più potente la più guarda che precisione i danni e la cadenza di fuoco deve essere tipo un m4 ma esce pure è qua si appunto è questa è la vera vedi? no no non è qui eccolo qua lui lui è proprio altro mi dico forse è per l'unso? si forse è per il suolo ecco 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 è vero vuoi fare le botoncini? si si sopravvivere cos'è una battaglia di soli no a sopravvivere qua 10 per 11 ma c'è forse un'altra arena ma io mi dicono che ha votato un posto in cui mi nascondevo a me dunque noi cani se lo scogliamento guarda mio nascondiglio è la mia nascondiglio merda salta salta no cosa ho fatto io dico no curati curati eh no è il volo di tasti sai com'è vaffanculo vabbè la riproviamo per il quadrato qua dopo lo tagli questo vero lo taglio lo taglio ok ti non ti preoccupare no non è fucile perché avanti la pistola tutti i figli di merda tutti i figli di merda buon calcio ottimo guarda quello là eh un headshot boom chi è quel finocchio là attento a non fare billate perché che colorati sei l'uomo stavolta boom secondo me perché mi consideri così? non mi ha visto ciao finocchio con la gamba qua davanti ah ok scusa eh eh c'è proprio la ci posso far scorrere i sottotitoli con la gamba lì davanti no tento tento entra e esci cura tutto no non entrare se non mi ammazza dove sono? perché anche se le porte è vero adesso corre adesso corre scappo scappo grazie grazie a te allora il mio posto preferito era era quello là il mio posto preferito perché non mi sia saputo che proprio ammazza per baci no perché non ma perché loro hanno i fucili più potenti dei miei a me mi dà solo una pistoletta che mi era schifo curati però no havo kit vabbè kit lo faccio quanti sono? non ti dice quanti sono vediamo se c'è qualche rifornimento beh una là eh ti vedo quanti siete? vabbè ok no c'è l'arte bella che tutti ti vogliono morto così si così no questo mio aspetta 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 che elimino subito ma dopo quando erano gli anti sommossa? eh beh per gli anti sommossa ci sono più tipi di anti sommossa aspetta io lascio che si combattano fra loro finisco mi stai sulle palle ciao spero che adesso che ho sparato un colpo questo qua questo qua questo qua prendi 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 lancia granate per la pistola eh per la pistola l'ha reso cosa? ah l'ha dato per la pistola si ciao poca roba mi ha detto perché perché mi perché non lo prendo ehi ma c'è la mia assistita no si boh no non c'è la mia assistita vedi si ma boh mi impunta l'uomo io volevo puntare un'altra cosa tipo la testa si si no ce n'è ancora uno mi pare che mi rompe le palline i rami oddio oddio devo correrla dietro la dietro al mio posto sicuro scappa 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 perché mi hanno già visto eccolo lì colori brutto figlio di merda ah ci non è scassi sono cattivi quelli lì ti aprono beh è il tuo momento no te l'è una bomba no ti aprono no c'è già qualcuno che li sta lottando io lascio che fa beh però mi viene qua anche se mi dispiace la spara la gal gal credici quello è per per la testa no no non la prendi io devo pensare alle tigri e le ho state quelle sono le cose peggiori no impar leopardi o qualcosa di gente si da giri la colonna comunque felini e sono più forti degli animali oh allora e poi i mirino lì non manda coltri schifesi c'era granata da qualche parte rano 4 la tigre per piedi allora oh cazzo i lupi i lupi scappa 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 lupi ci sono lupi sono troppo forti lupi che arma mi dai tu c'era un'arma da qualche parte no 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 ciao come è so sono troppo forti ma sono ancora peggio quello lì non vedi come salta poi c'è proprio aziz che scappa chi è aziz ma pensa a fare animali prima di pensare una cosa migliore si non so uno si guarda quanti colpi ho fatto finito una macchina mette su un gatto e il fucile d'assalto non metterà su alcuna guarda c'è un'arma andiamo a prendere non è così importante c'ho le armi si volge il termine perché ha eliminato le persone tu cosa mi dai un fucile d'acca non parlo fucile d'acca ha pochi colpi quanti colpi ha? 50 prendiamo il fucile d'assalto perché ce l'hanno tutti no ma ti farai mettere le munizioni no? con quella lì oi 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 dio porca madonna di dio se lo metti magari di inattività si è ok taglio credimi dopo metti tutti i miei punti per quel fucile là è fortissimo ah si? secondo me che puntano su di te si che mire ma e poi il mio mi sembra non l'ha adesso ecco basta ciao secondo me quando sei rinternato qua dentro un ottimo perché tu sei lì non mi piatti tu lì portiamocelo con noi cosa è cibo non so tu ti facendo fuoco contro di me ehi capo che conto di Messi quelle ti vedo non ti vedo la difficoltà del gioco è meglio cioè che c'è facile medio difficile e realistico non è una no sono munizioni tante se mi definisco un guerriero esatto secondo me conviene tanto da conto con il corpo di testa no ma è comodo perché sei veloce quanti sono ancora diamo toglierli se fuoco per una moto oh monotlof si dove va l'ultimo si non finisco l'inferno eccola dove vai dove vai che non ti vedo non ti vedo non ti vedo non ti vedo ecco ti ciao credici beh allora dietro ovviamente qualche armi interessante no corriamo la con secondo giosti che il personaggio soffra i venzi malate però più che si e poi partite casuali di tutto addirittura così fa la guardata di loro appunto ho tre monotlof monotlof vai a mettere una linea e mezzo così fai subito quello lì guarda che arma pesante ma che le una e mezzo lì subito così fai il carnevale no quello lì mi sta sparando ma è mona beh mi stava sparando da di là qualcuno no mi stava sparando quello lì ho fatto una headshot che posso l'accompagnare può accompagnare solo esatto lo non vale se gliela faccio da qua tiro un po' no quanti siete ancora uno sfigato sisi sfigato sono due ma lo scopri dove la la ma problema che non ti vengono vicino perché hanno cagotto se li viene paura si si sembravi solo insultare aspetta che raccolgo se c'è qualcosa tutto si si una pistola una pistola di plastica quello si dove quando la del masso dove il mio posto preferito si dopo quando 3 anti sono mosse è diventa palloso scappato scommetto dove sei ma mi sei lo scopri lo scopri lo scopri lo scopri lo scopri si è pure bruciato c'è guarda lo scopri si non muoio vieni qua vieni qua vai spara anche in testa e non muore ah hai fatto come andata via si ma con altre le mani non funziona scuola no non puoi dammi colpi dammi colpi che ho solo 8 colpi c'è qualche perso uh vediamo cosa mi danno munizioni di soldi di rapida lupi 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 è stato ad occhiato non interessa se mi è amata sul lupo mi farebbe un favore ma com'è che usava il kit com'è che usava il kit di togatano ad occhiato e qua mi sa che muori cuore qua però più che puoi ma no ammazzano ammazzano vieni adosso ammazza oh non l'ho trovata per fortuna mi fa anche di piscina tanto c'è quattro quattro attack fa anche la quarta due kit perfetto oh c'è l'antision mossa perché ho fatto sta roba non lo so perché ho confuso i tasti guardate il mezzo è uscito velo no ma c'è un'antision mossa per me è totale anche pagato guardalo che figlio cosa me ne freghi adesso che mi dicono arrivano anche quelli con le monoclo a un certo punto quelli sono impestati vedi ecco guarda eh te pare che mi rimane quello blindato no e dov'è eh perché che fantasia non mi puoi ciurare l'arma dopo sì ma fa schifo ti dà pochi colpi e poi buon possiamo prenderla però lì c'è un'arma guarda mettiti lì lì dietro al maschio vai e sparo di lì vai in un altro o esci funzionano le 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 com'è che si usare molto no com'è che si lanciavano le cose usare molto fai qualcosa? no comincia a sparargli la testa proprio tu hai eccolo vai giù l'arma giù l'arma ah no erano le cose delle armi secondari meglio fucile assalto credimi che arma mi dai che arma mi dai sì si corre con questo qualcuno è proprio già bruciato di suo vediamo sto qua abbiamo già finito i colpi figo vai ma io prendo questa prendi quella prima d'anti sono mostrato la e non c'ho provvedì provvedì sai vai al centro della cosa no ci arriva qualcuno no questo perché ho sbagliato non c'è la chitta sì ma mi stanno continuando a sparare ma che figli c'è la merda scura più eh ne ho uno ma guarda quanti ne ho usati solo per per tornare in vita un momento eccolo qua stai figli di puttana no non mi sto rivertendo ma io voglio starmi qua anche se a zero colpi però me li prenderò da qualche parte no 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 prendi questo prendi questo che c'è un leopardo da qualche com'è che si salta ascolti l'indietro quello là quello là quello là ottimo ottimo cosa ho preso che arma no munizioni perché ho fatto fuori anche l'altro magari no qui a ricaricare ragazzi oh guarda che bello mi sembra un antisommosso che l'ha presa con leopardo oh quel che ma non puoi sare l'arma dell'antisommosso appunto che arma c'è qua non sono uguali no logica da paura guarda lì quanti ce ne sono beh almeno uno o due si leva dalle palle non le tre chi è quello lì ma è tanto sai fuori quello lì no oh quello là è quello con le mole vedi quello che corre comunque no quello lì con delle cose che ti lancia le cose aspetta però noi abbiamo questa e quindi un colpo se no però se si è bruciato come hai fatto? non lo so neanche io abatti abatti chiaro ma mi è saltato addosso attenzione che sono mascherata ce ne è lunata se mi stai manciando non puoi far tirare che sono mosso vero? eh non so se si è sbloccato l'abilità ho capito ma c'è l'abilità per sbloccarlo perché tutta sta cura qualcuno un'altra volta no che bello aspetta mi torna la vita si mi torna mezza no non mi fai soffrire no quando spara a questa distanza è una lunga gittà ma c'è solo lui siamo a round 8 sai che se arriviamo a round 10 siamo in a cavallo boom si ma vedi vi dimoni l'ora eh appunto curati almeno un'altra volta come siamo appena all'inizio curati no 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 guarda come non ti stia parla spalla ops dai dove vieni fuori uno che cazzo no mi sa che c'è da un po' quello c'è del ruolo oh cazzo però c'è quei bidoni dovrebbero esplodere forse oh cazzo oh cazzo corri l'ho fatto fuori l'ho fatto fuori ottimo spero che siano solo in due se no muoio si si però sono in due no non sono in due ah in te ne ho già d'occhiata corri 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 qua 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 si torna male ho lanci una monotone ah tu ah lo lancia fiamme perché? ma boh quello lancia fiamme non è almeno il problema perché quello del lancia fiamme mi arrostisce da vicino ha fatto colbi? cazzo si lo so che la miteletrice è più forte di un fucile a po ma si chiamava la tessomossa Giovanni? boh o no ne ho solo uno Non ho tempo Dobbiamo trovare un'altra arma Quanto è distante Quello con Cazzo è lì Curati Sì Oh abbiamo finito il kit La cosa è bella Che qua posso curarmi gratis Sì Sì No Me ne aveva dato uno E io l'ho messo in corte Ah sono ancora di tutti e due Sì lo so Ti dico il problema è quello lì Ma da qua non ne faccio niente Lancia fiamme almeno Ma come è che si stia vicinando insieme Oh cazzo Ecco che arriva lancia fiamme Perché sbaglio continuamente Ma la cura Spererei di ammazzare Spererei di ammazzare Perfetto Prendi un'arma Eh Saper dove suoi le armi No è laggiù con l'altro Oppure li fai Li fai avvicinare al giro Eh ho presato anch'io ma No io non so ti dico non so dove Se puoi hai l'abilità per ammazzarlo Mi rompe le palle quello là Oh se tolgo quello con la metrellatrice Se tolgo quello con la metrellatrice Altre armi dove saranno Ehi sei più forte tu lo so Lo so non ho speranze contro di te L'ho capito L'ho capito grazie È un'arma quella là Sì vai Oh Sì ma dobbiamo trovarci un modo per caricarla Ok dov'è Ma adesso sono speri Sono già caduto Fuori ma Quale ha fatto fuori Quello che mi piaceva a me Ok Quello che mi piaceva a me Perciò possiamo passeggiare tranquillamente per dei qua Ricordate che non si avvicini quell'armi Sì sì che non si avvicina Adesso mi dà le armi No ammazzioni Allora mi piace la fermiamo Un po' finisce Allora finisce l'arena Se tu muori tranquillamente Eccoci qua ragazzi Finito Vediamo Codici moriamo? Pronto siamo arrivati alla un 10 Siamo 31 minuti di video Non ha Non mira bene No Prima però li abbiamo ammazzati Quello è bello Sì sì Fai quel che vuoi Che cammini lento come non so cosa Vieni qua Dammi questo Abbiamo un fucile belli Questo qua Questo qua Si ferma qui Questo Ecco lo deve Non so se L'orso È finito il tempo Perché non posso Perché non posso È che siamo morti Finito Finito Cosmo Cosmo Non questa Sì Ar organizational Cosmo 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 Per B Cosmo 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 Grazie a tutti